che infanzia abbiamo avuto quattro fratelli e una sorella sempre in viaggio attraverso l'Europa in case splendide e poi non si andava a scuola da mattina a sera facevamo ciò che ci passava per la testa come mai tutto ciò ad un certo punto è svanito? Tu pare stai troppo un minchione mio padre un minchione? questo è impossibile lui era il grande architetto che ci aveva costruito una splendida casa da un vecchio rudere è vero che indagando ho scoperto delle cose un po' strane a suo riguardo e ora capisco meglio perché abbiamo traslocato 40 volte in 20 anni il mio padre dice sempre il mio padre è il mio traslocato che paga picci diciamolo non sono cresciuto in una famiglia normale e adesso non riesco a capire cosa sia la normalità allora ho rimesso ancora una volta il vestito di Klo Klo per cercare di capire ma è il mio padre è il mio padre Grazie a tutti